Il referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro, il sacerdote parroco di Polistana Don Pino De Masi, individua la causa di quanto è successo la scorsa notte nella Tendopoli di San Ferdinando, nel decreto sicurezza approvato in Parlamento e voluto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Un decreto, afferma Don De Masi, che tradisce i principi della nostra Costituzione, i diritti umani e che abbassa ulteriormente il grado di umanità nel nostro Paese. Queste misure hanno l'evidente scopo di ostacolare l'accoglienza. Chi ha sottovalutato quanto affermato da Libera all'indomani dell'approvazione del decreto sicurezza, osserva ancora il sacerdote, si ricrederà dinanzi alla morte di suo arroiate, diciottenne privato dell'assistenza a Sprarra, in seguito al decreto, che a questo punto potremmo chiamare tranquillamente decreto in sicurezza, come ha già fatto il quotidiano l'avvenire. È strano che la baracopoli della morte, aggiunge il referente di Libera, visitata dal ministro Salvini lo scorso 10 luglio, e da dove è andato via subito sbuffando, qui dentro si schiatta di caldo, continui a rimanere lì a seminare vittime innocenti, mentre viene assurdamente sancita la fine dei progetti Sprarra. L'unico sistema, osserva il sacerdote, che in questi anni si è dimostrato efficace nel produrre da una parte una reale inclusione dei migranti e dall'altra coesione territoriale. Quanto alla tendopoli di San Ferdinando, conclude Don Pino De Masi, ci saremmo aspettati dal ministro Salvini, dopo la sua visita, un intervento positivo e immediato. Così non è stato.